Ok, buongiorno, io sono Marco Necchini, quello che ha svolto il compito di segreteria organizzativa del convegno svolto qui a Reas. Desideravo innanzitutto ringraziare la direzione del Reas e soprattutto una persona, il dottor Maurizio Catania, che in questi anni ci ha sempre aiutato a migliorarci e ci ha dato sempre l'opportunità di essere qua presenti gratuitamente in questo importante consenso in cui circolano circa 30.000 operatori del settore. Sono contento della riuscita di questo convegno perché avere più di 150 persone in sala ha fatto vedere l'evidenza che un certo tipo di formazione specifica, tecnica in questo ambito manca. Manca e se ne sente l'esigenza di sapere, solo che ci sono pochi momenti formativi dedicati. Certo noi in tre ore non potevamo spaziare su tutto ciò che c'è da dire sul trasporto pediatrico e neonatale perché ce ne sarebbe veramente tanta e troppa di roba da discutere. In tre ore non si può fare. Però abbiamo dato il là almeno a porsi delle domande e abbiamo dato degli spunti di risoluzione a certe problematiche. È chiaro che anche con il nostro messaggio vogliamo giungere anche alle centrali operative 118, 112 dove è già attivo e darlo spunto di riflessione su alcune caratteristiche dei loro protocolli che sono un po' distorte, che sarebbero da correggere. Noi vogliamo collaborare per migliorare il trasporto pediatrico e neonatale in Italia. La nostra è solo uno spunto di riflessione di una categoria che ha coscienza delle problematiche tecniche relative al proprio profilo. Chiediamo quindi che ci sia questa attenzione e che si vada nella direzione di istituzionalizzare un profilo professionale di autista soccorritore in Italia uguale in tutte le regioni con almeno 400 ore di formazione perché sotto questa soglia non può esistere un profilo professionale e se questo non fosse possibile a causa del fatto che i volontari non possono fare una formazione così importante ci si trovi a un tavolo per discutere qual è l'alternativa. A mio modo personale di vedere non è quello del COES, è il mio personale, questo potrebbe essere fatto in questa maniera. I volontari hanno un attestato che li certifica come operatori di base con 150, 180 ore, 200 ore decideranno le proprie associazioni nazionali di categoria. Gli operatori professionali potranno avere invece un attestato appunto di qualifica professionale con 400 o più ore che deciderà il Ministero della Salute che è l'unico titolato a istituzionalizzare una figura che lavora in sanità e questo gli consentirà di guidare e di intervenire come autista e soccorritore in particolari contesti che non sono solo di base ma sono intermedi o avanzati. Faccio un esempio, trasporti neonatali pediatrici con termoculle oppure mezzi di soccorso tipo l'automedica, tanto per intenderci che sono mezzi di soccorso avanzato o trasporti con circolazione extracorporea con contropulsatore aortico. Tutte queste tipologie di trasporti interospedalieri d'urgenza e di elezione li può far solo, li potrebbe fare solo come mia idea chi ha una formazione professionale. Questa è la mia idea, spero che sia veri almeno di poter avere la figura dentro brevi tempi in Italia. Grazie.